Terzo Polo Artistico Italiano Impegriamo l'arte dedicativa e il sistema Ciao, sono Gino Aprile Volevo presentarti il nuovo movimento artistico Terzo Polo Se sei deluso dal mondo della discografia dal mondo dello spettacolo in generale in cui tanti di noi ripongono le proprie speranze le proprie aspettative visita la nostra fanpage clicca su mi piace lascia il tuo recapito telefonico e prontamente sarai contattato per una consulenza ti spiegheremo in che cosa consiste questo importante programma associativo che crediamo possa essere l'unica soluzione ai tanti problemi che il nostro ambiente ci sta regalando e allora ricordate insieme liberiamo l'arte dalle catene del sistema Terzo Polo Artistico Italiano vi aspettiamo Terzo Polo Artistico Italiano e perdiamo l'arte dalle catene del sistema e perdiamo l'arte dalle catene del sistema